ragazze e ragazzi rieccoci qua su ades allora continuiamo le nostre fughe ormai è il nostro lavoro praticamente e ci è andata bene anche l'episodio scorso abbiamo fatto la doppietta diciamo e io starei così sempre con l'arco l'anello di zeus eccetera 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 adesso devo aumentare il calore di uno se io voglio ottenere le ricompense e che cavolo metto mo perché qua è sempre più difficile scegliere c'è cosa scegliere potrei mettere questo così andiamo a 12 dai lenta la fuga ecco adesso ho messo l'anello ma non ha funzionato quanto pare si è presentato il martello però non ci credo e tre episodi che mi capita il dado ripetizione ma cos'è si è offeso il gioco che lo stavo insultando nel pensiero cioè boh ok parte del diciamo dei potenziamenti necessari l'abbiamo ottenuto gran parte ok adesso speriamo col resto così risparmio il dito non avete idea come sono contento si non tutti i nemici hanno diciamo una piccola vita in più ma pazienza cioè va bene va bene andiamo da zeus eccolo cioè devo prendere una volta in più ma ho dato ripetizione io credo di no eh allora non c'è lo scatto ma io prenderei il fendente fulminio ok la chiave va bene eh esatto ok cambiamo ok 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 scarica statica facciamo scarica statica scarica statica guardiamo qua no nulla che ci interessi io prenderei la chiave eh eh addirittura due addirittura addirittura la fontana ma cos'è eh sembra troppo 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 bello proviamo a cambiare la ricompensa Demetra va bene abbiamo ok ah sta morto questo è quello che hai fatto che ti è detto Ecco è molto utile ovviamente sei molto più ampia e sei la mia piccola cosa direi che la manteniamo in questo modo Allora Gli effetti di guarigione sono più efficaci Direi di prendere questo per il futuro Ok, sì, adesso non avevo bisogno di vita Va bene Va bene Porca, ho preso in pieno Porta Attenziamento, va bene Sono tutti corazzati Ho le trappole che mi fanno malissimo Ripetizione Adesso ne guadagniamo di soldini Just a bit longer Mi zaga Mi zaga Prendente, fendente I soldi Vai, esageriamo Esageriamo Spero di no Sceggo Delle 6 Scelgo Zeus Prendo lo scattotone Do you believe Do you believe I give my blessings liberally, Zagrius? Well, then I have news for you I'm sorry, Demeter No, then I have news for you Ok ok prendiamo arabesco gedoa per ora ah c'è ma si dai andiamo quella strega pochissimo ok cambiamo ancora perfetto attanatos let's get this done you wrenches are coming with me ah 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 ok fil 33 a 2 cioè cioè dove sei grazie no no recuperiamo un po' di vita e andiamo dove ci sono i soldi va ok 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 eh direi potenziamento dai iniziamo al fendente fulminio e andiamo mi 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 che mi 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 molto arrabbiata come sempre abbiamo messo pochissimo Allora, mettiamo la ghianda No, va bene, possiamo andare avanti Proviamo Ecco, non devo lasciarla tenendo, vabbè Ok, potenziamento soldi, direi potenziamento E a sto giro non abbiamo incontrato Athena Perciò non abbiamo quello che respinge i proiettili Però, vediamo, se non esagerano va bene Ok Andiamo da Caronte, va Ecco Athena, prendo la chiave Prendiamo il fulminio E non c'è Facciamo che... facciamo pelle bronze Ok Niente Ok, ancora Athena, bene Ah, c'è il cristallone A posto, ah, ok Va bene Io direi Potrei prendere il soccorso di Athena Però Sì, dai, prendiamo il soccorso di Athena Cos'è? Cos'è successo? Cosa... Perché sono apparsi con i cuori in alto? Si è sbloccata E non ho capito perché Perché forse ho accettato abbastanza doni Non so Ho un dono particolare Quindi in teoria adesso per se no da che la incontriamo Possiamo portarla al massimo Allora Non ho capito Ok Andrei di chiave Non so Sì, perché in effetti Finora non è che sono proprio al massimo C'è il lucchetto Quindi Però non ho capito il perché Ok Bah, non so Forse devo prendere un'invocazione a testa Può essere Ok Eh, no, va bene così Posidone, lascialo lì So che per prendere un'invocazione a testa Adesso proveremo Ok 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 Molto bene No Ok Molto bene Ho l'invocazione suprema Perché quello che la diatela non me la ricordo Vediamo Ah, forse ci pariamo dai proiettili Ah, ok Va bene È stata Semplicissima da battere C'è Capitasse sempre all'inizio Il dardo a ripetizione Però è Chiedere troppo Ovviamente Lo so Lo so Direi di andare avanti Eh, capitasse una volta per run Sarebbe già buono È la terza volta che capita È strano Andiamo al martello Ovviamente Llevato Sarebbe Sarebbe Ok Vediamo Ecco Questo qua Scoccata catena Questo attacco colpisce fino a tre nemici Combinato con il dardo a ripetizione E tanta roba Andiamo da Hermes Ok io basta che ne prendo uno Se c'è il gruppetto li becco tutti Ok Più con la saetta Aia Ok E avere i potenziamenti giusti Penso che ce la faccia chiunque Facciamo che Favore frettolone Andiamo dal La coppia Ok prendo questo E questo Dai si sa mai Scelgo ovviamente Zeus Anche perché Quando Zeus si arrabbia Non è bello Alto voltaggio Eh preferisco Si arrabbi Demetra Ecco Sostanzialmente Tra i due Si arrabbi Oh Io sto fermo Ok Tocco glaciale Tocco glaciale Dai Cambiamo Afrodite Ancora Demetra Però tra Atene e Demetra Scegliamo Demetra Ho visto che con Atene siamo a posto Ah no devo darle il dono E' vero Se era possibile Non so se era possibile Però Non so se fosse non voglio andare a fare qualcosa così non può vivere le storie perché riconoscire? parlando di che... Ah no Eh no Adesso mi paro io Eh però si Invocazione di Atena come scudo In generale Non è male posso stare fermo Eh Ecco basta Allora prendiamo Ah questo qua si Cioè i doni vengono comuni E acquistano in realtà ogni tre incontri Ok Scattotonante Alto voltaggio Va bene Ok 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 Chiave chiave Caraca Vai 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 Spingiamo tutto Ok 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 C'è No per le gemme non mi interessa Andiamo Voglioci potenziamento dai Madonna Regressività Si vedi Il gruppetto Funziona bene La cosa catena Lì Il gruppetto Mi carico in fretta Anche in La devozione Ok Fennante Fulminio Qua non posso Andare Direi Ancora Potenziamento Anci Un altro Outarto Non Qua non Miяжлять Poi Non Una Un Potenziamento Propaglande Poi Autore Un Un Uno Deh Un Un Vai Carica subito Ti manca Madonna Però bucissima vita eh Eh infatti Mi manca a loro Quanti ce n'erano qua scusa Bene Ok Potenziamo il soccorso di Atena Che è sto Sto suore Andiamo o no La caronte dai Vediamo se Ecco un po' di vita Potenziamento Facciamo Perle bronzia Ok No c'è perché Dove evitare di morire Non c'è Ancora Perché non posso usare Un altro pazzino Vai vai sto fermo Ok Ok Ah perché forse era uno per scontro È vero È vero Non mi ricordavo più Non posso usare Il pazzino Più una volta Per scontro No Ahia Non ho più lo scudo non importa ok ok no direi che prendo questo possiamo andare via guardiamo se c'è qualche vaso dorato qua si può pescare ma niente no aspetta un attimo qua cosa abbiamo proviamo a cambiare Afrodite vediamo cosa esce Athena dai andiamo da Athena voglio vedere se riesco a darle il dono ok 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 molto bene ok è cresciuto ah c'è ok lanforali grossa aia 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 ok ah vedi che ah l'ambrosia bisogna offrire aaa vediamo aia 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 ok ok legame forgiato con Athena ok legame forgiato con Athena ok ah ah si è usare ogni occasione di sfuggire dalla morte e recuperare lentamente vita eh si beh a questo punto l'arabesco divino non ci serve più perciò perciò è inutile che lo prendo prendo questo prendo questo ok molto bene ho poca vita però potenziamo scarica statica va allora adesso andiamo prendere il potenziamento ah prendere il potenziamento ah adesso i top io sono fermo eh cavolo ok ok vediamo qua ok ok recuperiamo un po' di vita dai prendiamo questo va tutto bene ok 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 vai difendimi chi c'è ancora? ah la ok facciamo scarica statica c'è niente va bene ok 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 allora adesso andiamo a prendere qualche soldino ok 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 locio non ci arrivasse ok ah ancora niente sono topi oh madonna ha preso questo bastardo ok ok no direi di no aspetta facciamo spero l'ultimo andiamo qua ok oh bene ok si sa mai molto bene non ci speravo proprio non ci ho neanche pensato ok ah ci siamo ok molto bene adesso prendiamo quello che possiamo e andiamo ok ah no non ho nulla per tre monete dai tre monete oh ma oh ma ok oh ma oh ma oh ma oh ma oh ma andiamo a guardare molto lungo insomma questo è da vedere eh ah ha la vita blu eh devo toccarlo una volta oh caracca oh l'invocazione è suprema aspetta un attimo la usiamo dopo ok di scudo non c'è più la usiamo adesso vai dentro fatti vedere ok hai chiesto di questo io ho qualcosa per te ok dai che abbiamo quasi anzi ce l'abbiamo va bene attenzione no eh vabbè poco in porta poco in porta ancora ancora ok eh si eh si ok eh se non perdevo tempo lì a cercare la sacca secondo me ci mettiamo ancora meno di 24 minuti della volta scorsa però va bene ok ok this can unlock a hidden aspect of my weapons va bene ok A volte molto lentamente, e a altre volte. Oh, dammit! Sono tornato. Ok, l'hypno non c'è. Ok, però con lui siamo bloccati. E non so se, secondo me perché ho accettato l'invocazione di Athena si è sbloccata. Che l'invocazione è forse il dono più vicino a un dio, no? Perché lo invocchi, quindi... Vabbè, non ti offendere però, cioè... Secondo me sì, quindi forse a turno per porterli portare davvero al massimo. Devo prendere le loro invocazioni. Eh, prima ti do... ecco. Ehm, non ci credo. Allora... Allora... Ma se tu vuoi ascoltare davvero la tua stazione currenta, dovrai farlo. Qual è il punto di ascoltare davvero la mia stazione currenta? Mi pensavo che il nostro lavoro fosse stato fatto in sicurezza. È. Non c'è nessun punto di prendere la propria, e la propria è pericolosa. Fai ciò che vuoi. Non so se tutto sia fatto adeguatamente. Sui sento bello. Fammi vedere. Avanzamento di grado. Qualità confermata. E' lui il direttore. It's been a while, resources director. I'll be sure to pay you a visit whenever I'm swimming in underworld valuables and want to feel better about myself and my new role. Hm? Come la tua azione, sei ufficialmente al servizio della dimora di ADE, in qualità di specialista della sicurezza. Il tuo incarico è relativamente segreto, su base volontaria a tempo indeterminato. Se dovessi raccogliere sufficienti risorse nei tuoi sforzi, potrai donarle all'oltretomba tramite il direttore delle risorse, al quale hai appena parlato. Per avanzare di grango e ricevere un bel distintivo. Il tuo rango è puramente simbolico e non comporta responsabilità aggiuntive, ma chissà. Potrebbe infonderti un certo orgoglio, qualcosa di cui ogni dio dovrebbe essere provvisto. Ah, quindi se mi avanzano dieci chiavi e mille di tenebra... Boh, avanziamo di grado. Vabbè. Ok, beh, dieci chiavi e possiamo arrivarci. Ma anche mille di tenebra e sua tenebra... Eh, non c'è, porca vacca. Vabbè. Pensava, speravo fosse in giardino, invece... Invece no. Aspetta, ehm... C'era con me? Ah, no, no, sta lavorando. Ok. Eh... Ma sì, diamo il nettare. Sì. Sì. Che profezia palesata... Vabbè. Vabbè. Allora, possiamo... Vedi, scambiare... Eh, ma il fatto che... Beh, oddio, il nettare... Serve... Adesso serve all'ambrosia più che altro. E per l'ambrosia servono due diamanti. E io... Prenderei una in più. Eh... Ha detto, dieci chiave e mine di tenebra. Eh... Dieci chiave possiamo averle così. Ok. Io starei così. Eh, cavo, speravo fosse qui... Persephone. Quindi può anche sparire. Ok, qua. Niente. Beh, qui è appunto qua. Lo specchio, sì, oddio. C'è questo da mille e cinque. Mi sa che è un po' inutile. Ormai qua con le abilità... Va bene così. Va assolutamente bene così. Potrei provare a prendere per dieci chiavi. Ok. Dieci... Dieci chiavi e mille di tenebra. Sare di grado. Hey, I'm back. Ah, you're kidding, what? Sometimes, boyo, you make me feel alive again, you know that? Being honest with you here, I'm grateful, really. If not for you, my friend, I'd have no one to viciously attack with no fear of reprisal whatsoever. Hm. Ok. Io ho raggiunto il massimo anche con lui. Persephone non si fa vedere, non si fa trovare. Cebero non c'era. Ehm... Con lui siamo al massimo. Magari se porto al massimo lei facciamo adesso loro quest. Oh, non saprei. Non saprei. Vabbè. Ok, no, mi emento. Metto questo. Direi che ci siamo. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.